Buongiorno, prima di entrare in argomento una rettifica doverosa riguardo Lazio Atletico Madrid ieri sera, ho preso una cantonata, non ho proprio guardato la partita della Lazio, ho guardato diretta Champions, mi è sfuggito l'infortunio di Pellegrini, mi scuso con gli amici laziali, non sapevo che Pellegrini era uscito per l'infortunio, mi è sfuggito, non lo so, fermo restando che io resto dell'opinione che chi si attacca a Rovello e Pellegrini pur di attaccare una certa persona, che riferisco alla mia tiposeria, è un coglione, uno, e due che non ce l'ho assolutamente, con il ragazzo, ma le mie sono battute quando parlo di Bleichner e Beckenbauer, per perculare questi fanatici che purtroppo fanno danni, vedi, inducono in errore, ho sbagliato ed è giusto a metterlo, prima, prima cosa, seconda cosa, apro il giornale, volete lo sport e vedo Juve multata di 2.000 euro per il cuore salta con noi Maurizio Sarri, cioè qui siamo veramente arrivati al ridicolo, qui si è veramente perso il senso del ridicolo, c'è il giudice sportivo, commina 2.000 euro di multa, Juventus per il cuore salta con noi Maurizio Sarri, vedete, qui c'è poco da dire, eh ma gli altri, eh ma gli altri, no io mi sarei anche un po' rotto il cazzo, di dire eh ma gli altri fanno quel cuore, eh ma io capisco l'educazione, ma se dallo stadio di Torino si pretende un convivio di educante svizzere, allora no, io non ci sto, e lì siamo sempre alle solite, la società quando ha intenzione di farsi sentire da questi personaggi, quando, quando, o dobbiamo sopportare ancora a lungo queste angherie, questo è, perché qui il problema non è, li buttano i motorini, li fanno il coro X, li fanno il coro Y, che qua c'è poco da guardare in casa d'alti, qua il problema, il problema è nei palazzi della TCC, a me quando fanno il rinvio del portiere avversario dicono merda, a me non fa né fredda né caldo, e penso neanche i calciatori tra l'altro, quando si dice squadra X merda, eccetera eccetera, ci passo avanti, perché è diventata una cosa talmente di routine, che solo chi non ha mai messo i piedi in uno stadio, può stigmatizzare, ma 2000 euro per salta con noi Maurizio, se io capisco che 2000 euro per la società Juventus, questo, che che ne dica qualcuno, sono l'equivalente del resto del fruttivendolo, però, e questo mi rivolgo alla curva, evidentemente se la società si è comportata in un certo modo, perché ha avuto un certo tipo di minacce, da chi sappiava, la società non reagisce, tra l'altro non mi è certo sfuggito l'artifizio al quale si è ricorso per evitare il colo, lega italiana figli di puttana, allora loro che fanno? Quando erano le squadre in campo, mandano il vecchio inno della Juventus, quello che si usava al comunale, poi fanno la carrellata della team, la presentazione, l'ino della Serie A, poi subito dopo l'ino della Serie A mandano il nuovo inno della Juventus, quello di Paolo Belli, una paraculata per evitare il colo, lega italiana figli di puttana, se non si fosse capito. ora, ma come sono suscettibili questi signori, come sono suscettibili questi signori, però cazzo non fanno nulla per migliorare le cose, e mentre in alcuni stadi si assiste ancora episodi di razzismo, qui la Juve viene multata per, salta con noi Maurizio Sarri, non ci sono parole ragazzi, non ci sono parole, cara Ferrero, Scanavino, come cazzo vi chiamate voi, prima vi svegliate, e meglio è, io l'ho sempre detto, se avete intenzione di rendere la Juve, lo zimbello d'Italia, fatevi da parte, dimettetevi, fatevi da parte, basta.